Di che? Dico della casa, la casa è anche... Perché ti chiamano la vecchia? Che è? Ti chiamano la vecchia? Sì, la vecchia. Perché? Che non so, ma ha detto che sono vecchia. Ha detto che sono vecchia perché io mi devo vergognare di andare con te. Te l'hai lavata la celletta? Sempre quando vado a... I stritoride? Tutto me lavo, me l'ho lavata tutta. Sei sicura? Certo, senti. Mi l'ho lavata tutta. Mmm, sei perfumosa. C'è il borotal con quella posta, io, di riso perché non posso... Ma Fabio è una rottura dei coglioni, vero? Sì. Te vuoi di tutta, no? L'altra volta quando me l'ha preso dal giulietro, me l'ha presa qui. Do te l'ha messo? No, me l'ha messo, ce l'aveva duro. Ce l'aveva? Ce l'aveva duro. Parla forte. Ma ce l'ha grosso lui. Ce l'ha grosso? Eh, perché ce l'aveva gucci. Ma te vuole buttare giù il fiume? Sì, sì, ma lui perché ne vuole fare? Ti vuole scopare? Ho già sentito anche in giro. Mandami un bacino. No, no, io gli ho detto. Gli ho detto che io preferisco te e Marco. Dico perché tu non mi piaci. Gli ho detto come è il modo che fai. Perché anche davanti alla gente quando passi con la macchina, che tu non ci sei dentro, mettiamo cuttana. Hai capito? Hai capito? Mmm, chicchi! Ecco. Eh, eh.